Fioramonti, perché lei ha chiesto le dimissioni oggi del ministro per alcune cose che ha scritto su Facebook tanti anni fa. Fioramonti in serata ha chiesto scusa, anche alla diretta interessata, una di queste era l'onorevole Santanchè, e ha detto che non si può essere penalizzati per una cosa che si è scritto quando si era giovani, eccetera, eccetera. Quindi lei accetta queste scuse o chiede ancora le sue dimissioni? Io non devo accettare le scuse, perché la questione non è una questione di forma, la questione è una questione di sostanza. La domanda è, una persona che pensa e scrive che tra le forze dell'ordine sono pochi i poliziotti per bene, che quando si spara contro un carabiniere mi meraviglio che si sia sparato solo contro uno, che scrive cose volgari e sessiste verso una donna impegnata in politica, e voglio dirglielo, Lilly Gruber, mi dispiace davvero di non aver sentito un esponente degli altri partiti, dei partiti della maggioranza, ritenere di dover dare la solidarietà a Daniela Santanchè, perché io sono stata la prima a dare la solidarietà al ministro Bellanova, quando qualcuno si è permesso di dire che il suo vestito poteva essere, diciamo, un po' così vistoso, e si è mosso tutto il mainstream, ma se dice a una donna di destra che bisogna sputarla in faccia, nessuno ritiene di dire mezza parola. Il punto è una persona del genere, una persona che pensa a queste cose, che deride i terremotati dell'Aquila, gente morta che ha perso tutto. L'ha fatto quando, tanti anni fa, quando era molto giovane, ha detto che non va fiero di quello che ha detto e scritto. No, le chiedo. Sì, ma il problema non è quando l'ha scritto, sono contenta che siate diventati così, che siate diventati così, diciamo, comprensivi, perché mi dispiace, ma mi corre l'obbligo di dire che se quelle cose le avessi scritte io, nel 1960, prima di nascere, sarei già stata cancellata dalla politica italiana, perché sono una persona che chiaramente non fa parte. Dopodiché, io dico, non è un problema di forma. Chi sarebbe stata cancellata? Un giorno scriverò qualcosa di forte e vedremo quale sarà la reazione. Dopodiché, il problema non è un problema di forma, il problema non è se lo hai scritto dieci anni fa, il problema è che lo pensi. Una persona che pensa cose del genere, secondo lei, è all'altezza di rappresentare l'Italia? Io penso che una persona così non sia all'altezza di rappresentare l'Italia, ha maggior ragione che non sia all'altezza di fare il ministro dell'istruzione, cioè quello che ci deve spiegare come educhiamo i nostri figli. E quindi sì, ritengo che il ministro Fioramonti si debba dimettere, e pretendo una parola chiara su questo da Giuseppe Conte, che ha passato l'ultimo mese e mezzo a spiegarci che cos'è il rispetto per le istituzioni, se ha rispetto per le istituzioni, ce lo dimostri, facendo dimettere un ministro palesemente indegno di fare il ministro.